Musica Venerdì 11 dicembre, buongiorno a tutti, ben ritrovati carissimi telespettatori di Fano TV come sempre sintonizzati al mattino presto in diretta alle 7 e mezzo, fa molto freddo stamattina siamo intorno a 1-2 gradi, almeno qui sulla costa dicevo c'è anche un po' di nebbia, quindi insomma copritevi se state per uscire dicevo siamo qui per leggere i giornali come di consueto prima però diamo uno sguardo al calendario con il santo del giorno oggi San D'Amaso I è stato un papa, il sole è sorto alle 7.31, tramonterà alle 16.31 oggi avremo un cielo sereno, poco nuvoloso, con temperature in diminuzione nei valori minimi i venti saranno da nord, il mare sarà inizialmente mosso, molto ondoso però il moto ondoso andrà a diminuire, attenzione alle gelate durante la notte in queste prime ore del mattino, soprattutto nei fondovalle, nell'interno quindi non siamo abituati, arriviamo ancora da un tempo sereno, comunque soleggiato quindi magari non pensiamo che ci sia del ghiaccio sulla strada attenzione, fate attenzione quando frenate soprattutto poi domani, sabato 12 di dicembre, avremo un cielo parzialmente nuvoloso vedete ancora le gelate durante la notte, il primo mattino nei fondovalle, nell'interno foschie, nebbie anche in nottata, domenica 13 dicembre il cielo sarà ancora sereno, poco nuvoloso temperature lieve, aumento le minime, saranno stazionari invece le temperature massime allora attenzione anche qui alle foschie e ai banchi di nebbia tempo stabile ancora per la prossima settimana allora cominciamo adesso a vedere i giornali, cominciamo dal messaggero messaggero, la pagina di Fano apre con il nuovo ospedale per il sindaco Massimo Seri, il nuovo ospedale nasconde l'emergenza del Santa Croce il sindaco parla di priorità che sono innanzitutto quello di correggere il piano aziendale di Marche Nord del futuro ospedale si parlerà secondo il sindaco di Fano per anni servono risposte rapide invece sull'attuale ospedale su quello che attualmente è ancora in funzione, che si trova nel cuore della città di Fano e che è l'ospedale appunto Santa Croce in attesa del Consiglio Comunale che è slittato al 18 di gennaio Seri vuole spostare il tiro dalla scelta del luogo dove costruire questo nuovo nosocomio ai problemi invece più urgenti, ovvero quello di sistemare almeno per quanto riguarda la città che amministra sistemare l'attuale ospedale poi le altre notizie sulla pagina di Fano del messaggero già 500 firme per l'autonomia dell'Istituto Tecnico Commerciale Battisti almeno 500 fanesi, forse di più, scrive il giornale hanno già aderito alla causa dell'ITC Battisti solo nella serata dell'altro ieri sera sono state raccolte circa 200 firme ma il lavoro degli insegnanti si sta concentrando sulle famiglie degli studenti di qua invece abbiamo un carrello della spesa distribuiti aiuti alimentari per 140 famiglie in difficoltà solo nella giornata di ieri hanno ricevuto queste 140 famiglie alimenti distribuiti al Consorzio Codma di Rosciano grazie al progetto Non Spreco poi sotto invece per quanto riguarda la salute farmaci, soltanto un fanese su 5 compra i farmaci generici invece di quelli originali insomma ogni giorno almeno 2500 fanesi entrano in una farmacia di questi la maggior parte sceglie ancora farmaci originali ovvero titolari del primo brevetto e non quelli cosiddetti generici i dati sono dell'ordine dei farmacisti che li ha diffusi e che parlano chiaro appena il 17,9% dei fanesi sceglie infatti quelli equivalenti preferendo ancora nonostante la crisi e il costo del ticket il farmaco più conosciuto tra i vari appuntamenti che segnala la pagina di Fano del messaggio di questa mattina io vi segnalo invece questo documentario che verrà proiettato questa sera alle ore 21 nei locali dello spazio A.E. nella zona Codma-Rosciano di Fano e che riguarda le mafie nelle Marche la video inchiesta è stata realizzata da alcuni giovani e si è rappresentata appunto questa sera vicino al Codma di Rosciano poi sulla fusione dei comuni Pesero-Mombaroccio ma c'è anche Urbino e Tavoleto slitta secondo il messaggero ad oggi la sentenza del Tarma in realtà pare proprio che qui la situazione è veramente a volte un po' anche ridicola se poi è confermata questa cosa nel senso che la sentenza in realtà ci sarebbe già stata però siccome poi ieri era tardi hanno chiuso i dipendenti se ne sono andati giustamente hanno fatto il loro orario di lavoro e quindi si saprà l'esito di questa sentenza soltanto questa mattina probabilmente lo sapremo già di primo mattino presto comunque stasera faccia a faccia dei comitati invece del sì e del no in provincia quindi nella sede della provincia un confronto pubblico che è stato organizzato dal Movimento 5 Stelle dipendenti, parliamo di nuova Banca Marche dipendenti minacciati, il clima è velenoso il presidente di Dipendiamo Banca Marche difende gli impiegati dice il presidente erano tutti all'oscuro di ogni cosa stiamo portando avanti un'azione legale contro i 37 indagati e ci chiediamo la scelta di azzerare tutto era davvero l'unica scelta possibile tra l'altro Forlani dice ultima beffa alle vittime cioè quelli che hanno perso tutti i risparmi per accedere agli estratti conto vengono chiesti 4 euro a documento sullo stadio a Pesaro un pronto nuovo progetto è mezzo milione ma il comune tira dritto tesoretto e studi per il nuovo impianto disponibili all'Aspes Belloni dice non sono funzionali meglio intervenire sul Benelli questa sera il sindaco e l'assessore presenteranno il piano ai tifosi ma schiaratura dice qui non c'è futuro capiamo il giornale adesso apriamo il Corriere Adriatico andiamo sulla pagina di Fano sulla pagina di Fano si parla della Fano Grosseto c'è un intervento dell'onorevole Lara Ricciatti dice i sindaci vanno ascoltati e poi sotto invece storia e turismo carnevale carte a carte scoperte parla Ivan Antoniozzi che è Ivan Antoniozzi fa parte dell'Ufficio Europa che ha redatto il progetto che è stato presentato al Ministero per ottenere i fondi due gli elementi chiave presentati segnalati ovvero il significato storico del Carnevale di Fano e la capacità di attrarre turisti in anteprima il progetto appunto presentato per il bando ministeriale Antoniozzi parla di eventi in rete abbiamo puntato sui pacchetti degli operatori turistici che includono diverse iniziative ancora dal Corriere Adriatico se amate andare in bicicletta e ce ne sono tanti di quelli che vanno in bicicletta lo vediamo tutti i giorni sulle nostre strade si parla di cicloturismo Fano tappa del mini ride l'evento è organizzato dall'Umbria a Blue Bay e unisce lo sport alla scoperta delle bellezze dei territori si parte da Villa Pitignano per attraversare l'Umbria le Marche e approdare nella città della Fortuna l'incantevole itinerario dei mercatini da frontone a Cartoceto un weekend all'insegna dello shopping e dello spettacolo a San Costanzo protagonisti imprenditori e artigiani del posto con i loro prodotti a chilometro zero nel borgo di San Vito a San Lorenzo scatta l'evento gustando il Carnevale dedicato alle eccellenze e in questo articolo naturalmente vengono proposti e vengono presentati tutta una serie di eventi tra cui appunto anche quello più vicino a noi probabilmente a Cartoceto dove domani alle 15.30 per esempio tra i tanti eventi nella palestra dell'Istituto Comprensivo di Lucrezia sono in programma due eventi importanti c'è l'arrivo per esempio di Babbo Natale il Natale animato con le letture di Nati per leggere la sfilata dei bambini del nido dei pacchi sono tante le iniziative che troverete nel giornale di questa mattina la pagina di Pesaro invece del Corriere Adriatico punto ovviamente sul referendum Pesaro-Mombaroccio e c'è la sorpresa invece che è stata annunciata anche dal sindaco Matteo Ricci ieri proprio qui nel nostro studio Occhio alla Notizia l'anticipo di questi 20 milioni che arriveranno grazie ad un emendamento che è stato approvato fusioni fra i comuni Ricci ha approvato l'emendamento che raddoppia i contributi stratali 20 milioni ovviamente non arriveranno tutti in una volta credo siano 2 milioni all'anno per 10 anni quindi comunque fanno 20 milioni i fondi governativi saranno distribuiti nell'arco ecco lo scrive qua le 10 anni per Pesaro priorità a manutenzione e scuole se vince il sì Pesaro-Mombaroccio conserva la sua autonomia dice Ricci primi interventi alla Rocca e al Santuario del Beato Sante che come ricorderete sicuramente qualche tempo fa è quando c'è stato quel vento molto forte insomma lì c'è ancora un'impalcatura che sta lì attorno a questo campanile insomma considerando che poi siamo entrati nell'anno del Giubileo Monbaroccio il Beato Sante è una delle tre chiese a Pesaro dove si può appunto attraversare anche la Porta Santa siamo la regione della generosità nella pagina delle marche del messaggero è stato consegnato il picchio d'oro al Cardinal Menichelli andiamo adesso invece sul resto del Carlino sul resto del Carlino a pagina di Fano ore di apprensione per Sara Bracci la 36enne è in coma farmacologico ha diverse fratture sul corpo sono ancora gravi ma stabili le condizioni di Sara Bracci la vedete in questa bella immagine qua sotto eccola qui Sara Bracci originaria di Fano mercoledì intorno alle 11 si sono scontrate la sua auto una panda si è scontrata con con una Ford Fiesta una Ford Fiesta dove c'erano tre persone a bordo alcune ferite ma non in modo grave insomma la più grave è Sara e in tanti adesso pregano per lei fanno il tifo per lei la conosciamo tutti è una ragazza che abbiamo avuto modo di conoscere tutti quanti anche perché è sempre stata molto impegnata nel mondo dell'inogastronomia dei vini eccetera quindi insomma forza Sara e speriamo che tutto si risolva al più presto le altre notizie dai giornali sempre dal resto del Carlino assicuratore intascava polizze a processo spariti oltre 100 mila euro rilasciava ricevute false la sorella in aula dice non è stata colpa sua aveva perso la memoria si parla di questa truffa la compagnia Allianz chiede i danni ma si rifiuta di risarcire i raggirati poi arrestato in Turchia un medico fanese lui dice io non mollo Antonio Scardino presta la sua opera in Siria nelle terre martoriate dalla guerra lo vedete in questa foto cerchiata un gruppo di uomini armati dice mi ha puntato la pistola contro mi è sparito anche il passaporto poi la storia la storia di questo da pecchio di questa volpe Ollie la volpe mangia biscotti questo piccolo animale si presenta pensate tutte le sere per ricevere la sua razione di biscotti si è chiamata arriva dal bosco a Valdara adesso che tutti lo sanno speriamo che non ci sia qualcuno che la chiami per qualche altro motivo oltre che dargli al biscotto comunque vabbè è una bella storia e andava raccontata scontro tra Chiarabilli e Cinque Stelle sul futuro dell'ospedale Fosso Broni il vice sindaco rinfaccia le vecchie posizioni i pentastellati chiedono invece chiarimenti sui nuovi sui nuovi tagli poi sulla su Banca delle Marche quella corsa nel 2011 a vendere le azioni la domanda che si pone il giornale è alcuni amministratori sapevano tutto le rivelazioni di un funzionario pronto a raccontarlo in procura il vero affare sarebbe acquistare i cosiddetti crediti deteriorati ci sono circa 300 obbligazionisti in provincia di Pesaro Urbino che hanno perso in totale in una notte oltre 31 milioni di euro chiudiamo con l'ultima pagina del resto del Carlino eccola qua la pagina dedicata all'orgoglio marchigiano alla festa alla festa per la regione le marche con lo spirito patriottico siamo fedeli alle nostre tradizioni il picchio d'oro al cardinale Menichelli e all'imprenditore Giusti e con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa che torna domani mattina in diretta alle 7.30 questa sera invece alle 20.30 c'è come sempre il nostro telegiornale ma vi ricordo che abbiamo anche il nostro sito internet occhio alla notizia punto it sempre aggiornato in tempo reale a voi tutti l'augurio di una buona giornata Grazie a tutti Grazie a tutti.